Ciao a tutti, sono Jack e benvenuti a una nuova puntata di Into the Limelight Vi invito subito a iscrivervi al canale perché siamo arrivati a quota 6.000 iscritti ma lo scopo è di arrivare a 10.000 il più in fretta possibile Oggi vi propongo una specie di unboxing di massa senza la box, senza la scatola quindi non so bene se si può chiamare unboxing, comunque fa niente Abbiamo circa una dozzina di zin da scoprire perché sono arrivati alla gioielleria Maiocchi di via Ripamonti a Milano e dato che ero indeciso se presentarveli tutti in un botto oppure uno per uno iniziamo a farli tutti in un botto per poi magari decidete voi quale volete che io recensisca come saprete da un mio video, probabilmente l'avrete già visto io ho un zin degli anni 90-2000 che è questo, l'809, semi-introvabile non vuol dire che vale quanto un Patek Philippe però comunque ci tengo tantissimo, se non avete ancora visto il video lascio il link qui sopra così ve lo andate a vedere, anzi qui sopra immagino, sì qui sopra da quando ho questo zin 809 mi sono innamorato di questo brand tedesco un brand made in Germany, non made in Switzerland ma forse un po' sottovalutato per questa cosa ma a me piace sinceramente e personalmente tantissimo è un brand che nasce a Francoforte nel 1961 quindi non vecchissimo, non stiamo parlando di cose del 1700-1800 comunque nasce per desiderio ed espressione del signor Zinn appunto di fare degli orologi come strumenti, strumenti per il volo, per la navigazione quindi dei veri e propri pilot watches oppure flieger come si dice in tedesco e proprio da queste radici si traducono i tanti orologi che Zinn ha in catalogo oggigiorno un catalogo molto molto ricco di orologi tooltastici nel senso di orologi molto perfini strumentali si andranno a inserire in una piccola nicchia di gente come me che ama il loro design molto strumentale e molto industriale di linee pure, di linee semplici e che vanno dritte al punto cioè che non lasciano spazio né alla nostalgia dei bei vecchi tempi andati come tante case stanno facendo proprio ora con i propri diver nostalgici, diciamo retro questi non sono né retro né futuristi il loro fine non è quello di apparire il loro fine è di far fare delle cose ai piloti di aerei, ai piloti di elicotteri, ai vigili del fuoco a sommozzatori, professionisti a gente dell'esercito, militari insomma un sacco di persone che utilizzano questi orologi e su questi orologi basano anche molte delle loro attività orologi per professionisti, orologi per fini strumentali e non orologi sicuramente da fighetti in cui il lato estetico prevale su quello strumentale ma proprio per questo secondo me il loro lato estetico alla fine a me mi li fa piacere proprio per questo comunque andiamoli a vedere uno per uno ora l'U50 è un diver di 41 mm profondità di 500 metri ma soprattutto il dato interessante è spesso solo 11 mm e lag to lag è 47 e mezzo quindi molto comodo sul polso anche un polso piccolo come il mio da 17 lancette molto particolari come potete notare la ghiera in tegement il rivestimento speciale di zin su alcuni suoi orologi e qui siamo sui 2000 euro poi abbiamo un altro diver professionale anzi, come Sin lo chiama è un Mission Timer l'U2 che ha la bellezza di 2000 metri di profondità e con lancetta GMT per un secondo orario 44 mm alla sua larghezza con un lag to lag di 51 quindi importante dimensioni abbastanza generose e 15 mm e mezzo di altezza alimentato anch'esso da un sellita però ovviamente è l'SW330-1 con funzione GMT sempre con la ghiera in tegement e cristallo zaffero ovviamente lancette diverse dall'U50 queste si richiamano diciamo così ai 1000 sub che io forse preferisco ovviamente in mano si percepisce come questo sia assolutamente un orologio da professionisti del settore e qua stiamo sui 2003-2005 poi questi sono i prezzi che Zin dichiara poi ovviamente anzi se passate da Rocco dalla gioielleria ma ai occhi dite che vi ho mandato io e vedrete che vi tratterà benissimo al centro dei nostri diver abbiamo quello che preferisco tra tutti questi non lo conoscevo prima ma sono rimasto veramente colpito questo è l'EZ-M3 il mission timer con 500 metri in profondità e protezione ai campi magnetici fino a 1000 gauss cassa sabbiata come praticamente tutti gli altri e come a me piace tantissimo ottimi 41 mm che vestano benissimo anche sul mio polso 17 perché è un ottimo 47 mm in lug to lug e alto poco più di 12 mm il disegno particolare delle anse della cassa me lo fa preferire agli altri diver perché aderisce perfettamente al mio polso andandolo ad abbracciare in maniera pressoché perfetta direi il vetro zaffiro leggermente bombato e la ghiera che segue anch'essa questa bombatura beh io tutte queste cose le trovo di una pulizia di design una bellezza quasi brutalistica e strumentistica eccezionale alimentato dal sellita SW200 alla corona vite a sinistra per non dar fastidio sul dorso del polso la lata in rosso alle 3 e mezza ve lo spiego meglio una volta che lo recensisco per bene e non vedo l'ora di poterlo avere tra le mie mani per un po' di giorni qui siamo a 3.500 e 1.700 poi abbiamo due U1 il best seller tra i diver di Zinn uno dei due è Integment l'altro no non ci sono differenze esteriori solo il prezzo che varia tra i 2000 e i 2004 il robusto U1 resistente alle condizioni più estreme è alimentato dal sellita SW200 largo 44 mm spesso quasi 15 con un lug to lug di 51 mm è certificato per 1000 metri di profondità poi abbiamo 4 Pilot Watch partiamo da quello più recente il 103 SA un classico Pilot Crono degli anni 50 in quest'aspetto monocromatico in un'edizione limitata di 500 pezzi già andati tutti venduti l'elemento pazzesco qui è assolutamente ovviamente il quadrante il verde non è proprio il mio colore preferito dagli orologi in assoluto ma qui la resa è veramente altissima date un occhio a questo quadrante di un verde pazzesco di un verde metallico che brilla moltissimo un'altra caratteristica fighissima è che sta allo zaffero di altissima qualità bombato con un profilo da farlo somigliare a un acrilico per un tocco più classico ha la funzione day date e 200 metri di profondità 41 mm x 16 mm di altezza il movimento è il concepto C99001 un calibro svizzero che è un tocco di novità al posto del solito Valjoux 7750 qua stiamo sui 2008 poi abbiamo un altro orologio presentato online pochi mesi fa come quello precedente uno dei più richiesti già tra i miei follower su Instagram e qui su YouTube il 105 UTC che è un GMT con un quadrante bianco e la data sfondo bianco ore 6 tutte cose bellissime per i miei gusti pure la data questa volta un orologio tecnico e sportivo con una ghiera per il terzo orario design altamente funzionale di nuovo semplice e molto pulito con una bella frecciona arancione e una ghiera in cui sbagliarsi è impossibile con un diametro di 41 mm e un'altezza di 12 il lug to lug è di 47,5 alimentato da un sellita SW330-1 profondità di 200 metri prezzo da 1500 a 1700 forse forse l'avrei preferito un goccio più piccolo dato che comunque la lettura dell'ora e l'altissima visibilità non sarebbero di certo sacrificate con un diametro un lug to lug inferiori sarà comunque secondo me una hit sicura questo gli ultimi due sono i pilot classici di Zenny 104 che forse sono quelli che preferisco meno perché appunto un po' troppo classici per i miei gusti soprattutto messi a paragone con quest'ultimo freschissimo 105 UTC 200 metri di profondità anch'essi hanno un design molto più tradizionale a partire dalle sfere e dalla font scelta per la ghiera e anche un po' tutto quadrante più classico alimentati da un sellita SW220-1 diametro di 41 millimetri altezza di 11,5 prezzi da 1200 a 1500 è tutto per questa puntata fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi Zen qual è il vostro preferito così se ne avete mai visti dal vivo o quale vorreste vedere sul mio canale precensito per primo aspetto i vostri commenti vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao